Cioè se uno volesse spacciarsi per chiunque altro come persona o come per esempio associazione, parrocchia, qualsiasi realtà, tecnicamente lo può fare? Allora, tecnicamente si può fare, anche se Facebook nelle sue policy dice che bisogna essere titolare di quella, insomma titolare di diritti e di rappresentanza di quell'associazione, in realtà tecnicamente si può fare. Perfetto, allora la mia domanda è questa, nel caso in cui, scusami Francesca vado un po' veloce, nel caso in cui un'associazione, una realtà, una comunità che però è titolare di questo diritto ad essere su Facebook o su un social network con il proprio nome e cognome, cioè, diciamo, a dire il vero, perché questa è la questione, che cosa si può fare dunque per, come dire, in qualche modo se ci si imbatte in queste realtà che non sono reali rispetto a chi ne ha il diritto, che cosa si può fare per, come dire, tornare proprio sulla realtà e sulla verità, pretendere tutto questo? Allora, tecnicamente Facebook permette di segnalare le pagine e i profili per utilizzare una terminologia di Facebook di impostori, ovvero di qualcuno che si spaccia per chi non è. La modalità di segnalazione è una modalità automatica, ci si accede direttamente dalla pagina in questione, sotto la copertina si trova la famosa rotella delle impostazioni, lo dico molto semplicemente, e da lì si può segnalare la pagina. Allora, come tutte le procedure di Facebook, anche la segnalazione non è una scienza esatta, nel senso che la pagina viene segnalata e si può presupporre che magari quante più segnalazioni riceve, tanto più celermente Facebook provvede a rimuoverla, non è detto che sia così. Per casi molto gravi, nel senso quindi pagine che hanno proprio dei contenuti inappropriati, oppure molto gravi, l'ultimo rimedio è quello proprio di rivolgersi direttamente alla polizia postale e insomma farla intervenire, però ovviamente stiamo parlando di casi molto gravi. spesso non bisogna arrivare fino lì, ma basta anche una segnalazione. No, assolutamente, Facebook permette una procedura automatica di segnalare le impostazioni. Perfetto, quindi questa è la possibilità. Per la modalità da seguire sicuramente. Perfetto. Perfetto. Perfetto.